A seguito delle indagini della Procura di Potenza che in data 12 aprile 2021 con l'ausilio dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno nell'ambito dell'operazione Shamar portavano alla luce l'inquietante portata del traffico illecito di rifiuti sviluppato e organizzato nel Vallo di Diano e più precisamente nell'area protetta Foce Selle Tanagro, il consigliere regionale Attilio Pierro ha presentato interrogazione avente oggetto richiesta di controllo sulla presenza di siti inquinati nella porzione meridionale della provincia di Salerno. Ringrazio la Procura di Potenza e l'Arma dei Carabinieri spiega Pierro e grazie alla loro indagine se il Vallo di Diano non è stato trasformato nella nuova terra dei fuochi in conseguenza di un vasto contrabbando di idrocarburi. Il territorio in questione è riconosciuto come di gran pregio anche per le produzioni agricole ed il rischio di inquinamento a seguito dello sversamento nel suolo e nel sottosuolo di ingenti quantità di idrocarburi leggeri come nel caso di un terreno di Atena Lucana sarebbe assai elevato e parimenti elevate sarebbero le conseguenze sulla flora e la fauna locali particolarmente trattandosi di un'area protetta. Non da meno continua l'esponente leghista e componente nella commissione agricoltura della regione Campania vi è una preoccupazione che tali elementi rischiano di avere un impatto negativo sulla reputazione dei prodotti agricoli locali molti dei quali godono del marchio DOP e DOC. Ho spiegato all'assessore delegato circa l'opportunità di eseguire controlli a campione sull'inquinamento del suolo e delle acque superficiali termina Pierro al fine di fugare rischi di inquinamento diffuso nella porzione meridionale della provincia di Salerno.